È incredibile l'ipocrisia che stiamo assistendo qui a Torre Maura, stiamo qui sorvegliando insieme ai residenti affinché le promesse del Campidoglio e della Prefettura diventino una realtà. Hanno praticamente ammesso che hanno fatto scoppiare una bomba sociale qui, ieri la cittadinanza si è mossa in maniera compatta e coesa per mandare via i primi 60-70 rom che erano stati messi dentro questa struttura che era già un centro d'accoglienza ben tollerato dal quartiere, lo sottolineo. Adesso basta con queste prese in giro, devono mantenere la loro promessa perché sono cose legittime, sono richieste legittime dei cittadini, li devono portare via e mi raccomando non li devono portare via in nessun altro quartiere, li devono portare via lontano dai centri abitati che è quello che diciamo sempre, è quello che vuole Roma e quello che vuole l'Italia. Nessuna integrazione per i rom perché è impossibile fare integrazione.